È normale e giusto, anche bello, che la politica si divida, che veda le cose in maniera diversa. Il confronto però deve essere la base della violenza, la base del rispetto delle parole degli altri. Da questo punto di vista io non posso che appoggiare quello che dice il Presidente del Senato e chi debba trovare formule per rificigliare in questo Paese. La città rimane divisa in due con ogni 29 aprile, con manifestazioni di segno opposto. Sì, è abbastanza evidente che è un po' così, perché ho contatto anche con il questore, con il prefetto e con la speranza che non succeda nulla, sì di grave. Per quanto mi riguarda, poi io rendo conto del mio comportamento e del mio sentimento. Io non ho mai mancato a una ricorrenza a un 29 aprile, mai, non solo perché è giusto, ma anche perché il Senato Ramelli poi auguro la mia generazione, insomma, nel periodo in cui si viveva questa situazione. Quindi lo faccio veramente anche per dovere, perché poi il Sindaco deve fare questo, ma lo faccio perché lo sento.